Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di videocorso di storia della Cina. Con oggi andremo a trattare la dinastia Qin, una dinastia che sepporti brevissima durata, si parla di soli 14 anni di regno, ebbe un'influenza così forte sulla Cina dell'epoca, i cui riscontri possiamo anche notarli adesso, che comunque merita un grandissimo riconoscimento. Ad ogni modo le date a noi conosciute vanno dal 221 al 207 a.C. e possiamo dire che ci sono tre grandissimi meriti da riconoscerli. Il primo, quello di aver coniato il termine Zhongguo per indicare la Cina come il regno di Cintro. Il secondo, l'aver spazzato via tutti gli stati feudali proprio della dinastia Zhou, introducendo e creando un'amministrazione buropratica diretta. Terzo, la più grande scoverta del XX secolo del mausoleo dell'imperatore Qin Shi Huang Ti. Se andiamo un po' al ritroso, notiamo già una partecipazione attiva dello stato di Qin, nel 770 a.C., momento in cui gli Zhou decisero di spostare la capitale da Hao a Luoyan. In questo momento storico preciso, notiamo infatti una suddivisione della dinastia Zhou, dai Zhou orientali ai Zhou occidentali. Come ricompensa per il grande aiuto dello stato di Qin nello spostamento della capitale Zhou, infatti lo stato Qin fu riconosciuto a un principato completo. Dovremmo attendere soltanto nel 360-338 a.C. per poter vedere nel sovrano Qin e nel suo primo ufficiale Shang Yan le basi di una visione grandiosa del loro stato. Se la dinastia Zhou fondò le relazioni sociali e politiche sulla dottrina confuciana, questo non si può dire invece del Qin, essi infatti rovesciarono tutto ciò che fu fatto in passato abbracciando una dottrina nuova, il legalismo, che prevedeva l'assemblamento e l'accentramento dei poteri soltanto nelle mani del sovrano e l'utilizzo della guerra con uno strumento politico. Le innovazioni proposte in questo periodo furono davvero importanti e le andiamo a vedere. Il primo, l'accentramento e il controllo diretto dello stato da parte del sovrano. Il secondo, il pagamento dei tributi da parte dei contadini in beni piuttosto che in prestazioni di manodopera. Il raggruppamento della popolazione in unità di 5-10 famiglie. Per la salvaguardia e l'utilizzo dell'agricoltura come un bene fondamentale dello stato ed infatti essi si adoperarono per la costruzione di due canali importantissimi, uno al nord del fiume Wei che serviva per l'irrigazione di mezzo milione di atri di terreno ed il secondo invece nella penura del Qingdu. Nel periodo degli stati combattenti, periodo che passò alla storia proprio per l'intensificarsi delle guerre tra i piccoli stati. Come ricorda anche Sima Qian nel suo monumentale Shih-Chi che la partecipazione attiva dello stato di Qi nelle battaglie più importanti. Le figure chiave di questo momento storico sono proprio il sovrano Qin, di nome Zhen il Giusto, che nel 246 salì al trono alla tenera età di 13 anni. Poiché egli era eccessivamente giovane e inesperto, gli fu affiancato il primo ministro Liu Puwei, il quale infatti attuò quelle trasformazioni radicali che portarono il piccolo stato di Qin a una vera e propria dinastia. Ma fu obbligato a lasciare la sua posizione dopo che la sua relazione clandestina con la madre del sovrano fu scoperta ed il suo posto fu preso da Liss e passò alla storia come il ministro di giustizia e per essere una persona estremamente fredda e calcolatrice, diverso infatti dal sovrano, che fu una persona invece che viveva di superstizione, magia e metafisica. Siamo nel 221 a.C. Con il termine delle battaglie tra i piccoli stati feudali, Liss coglie il momento più adatto per poter programmare lo stato di Qin unificato. Pertanto assistiamo alla nascita di questa dinastia e il sovrano decise di assumere il titolo di Qin Di. I due caratteri infatti hanno una radice tradizionale abbastanza profonda e la andiamo a vedere. Il carattere Qin va ad indicare tutti i sovrani della tradizione oggetto di culto. furono proprio coloro che hanno dato origine alla civiltà umana. Di invece, un carattere utilizzato molto nel periodo dinastico Shan per indicare anche qui le antenati reali oggetti di culto e soprattutto la suprema divinità. In un memoriale, Liss decise che non poteva essere accettato nessun legame di sangue tra il sovrano e i dedentori del feudo e quindi andò avanti con l'abolizione del feudo stesso. Tanto è che tutte le famiglie ricche e nobili che erano a capo di ciascuno di esso furono costrette a emigrare e a trasferirsi nella capitale di Sienghiana e si parla di un esodo di oltre 120.000 famiglie. L'impero fu quindi suddiviso in comandi e prefetture. La spinta e la volontà di voler centralizzare e unificare lo Stato si riversò anche in altri provvedimenti e andiamo a vederli. Prima di tutto, per quanto riguarda la scrittura, fu cognato, inventato un sistema di scrittura uniforme per tutto lo Stato che passò alla storia con il nome del piccolo sigillo. Anche il sistema legale fu uniformato e i principi fondamentali erano due l'osservanza della legge e l'obbligo di denunciare i trasgressori. Furono cognate anche le monete per tutto l'impero fatte in oro e a rame. Furono applicati dei regolamenti chiari per pezzi e misure. Ci fu un ulteriore editto che andava quindi a standardizzare la misura delle ruote dei carri perché dovevano essere uguali per tutto l'impero. Ed inoltre si andava anche a definire la larghezza delle strade che non potevano superare i 50 passi e che esse dovevano essere alberate. Importantissima infatti la costruzione in questo periodo del più grande muro difensivo della storia, la grande muraglia cinese, che doveva essere di oltre 10.000 li. Riprendiamo l'appunto riguardante il tentativo di omogeneità della scrittura portato avanti proprio dall'IS. Andiamo a vedere infatti un evento storico importantissimo del 213 a.C. Si tratta di un banchetto le cui conseguenze furono devastanti per la storia dell'epoca. Cosa accade? In questo banchetto parteciparono il sovrano, l'IS ed alcuni eruditi. Durante questo banchetto un letterato sentì il bisogno di parlare e di criticare l'atteggiamento che ebbero nei confronti della letteratura e della cultura. Cosa accade? L'IS in un momento di follia decise di voler fare un grandissimo rogo con tutti i libri esistenti fino a quel momento, salvando soltanto i testi di medicina, farmacia, divinazione, agricoltura ed arboricoltura. Una seconda conseguenza di questo screzio fu proprio l'uccisione di 460 letterati che furono condannati ad essere sepolti vivi. Questo episodio passò alla storia come il martirio dei confuciani. Poiché più lo stato andava ingrandendosi, più il sovrano era interessato a studi di metafisica e magia, che abbracciò completamente la teoria dei cinque elementi dove l'elemento che seguiva doveva superare e contrastare l'elemento precedente. Pertanto se gli Zhou erano l'elemento del fuoco, i Qin erano proprio l'elemento dell'acqua. Poiché il sovrano era così convinto di voler essere immortale e che il suo regno sarebbe stato immortale, decise di intraprendere un viaggio verso Shandon, dove sarebbe andato a reperire l'Elisir della vita. Questo Elisir era gelosamente custodito da degli immortali che si trovavano su una montagna al di là del mare. Cosa accadde? Una volta arrivato sulle rive del mare, egli perse la vita.